Chiesa di San Sebastiano, vicolo dei sotterrani a Lecce, 19-31 marzo 2016, un appuntamento da non perdere, maniera nera e non solo, esposizione a cura di Vittorio Manno e Angelo Rizzelli, leccesi, materani d'adozione e non solo. Vi vogliamo presentare questo appuntamento e salutiamo i due maestri, professori, amici, Vittorio Manno, ben trovato Vittorio, e Angelo Rizzelli, ben trovato anche a te Angelo. Cerchiamo di presentare nel migliore dei modi questo appuntamento per poi ripercorrere un po' le vostre vicende che si sono incrociate partendo da Lecce e poi qui a Matera, maniera nera e non solo, Vittorio, cosa proporrà? Praticamente noi presentiamo una produzione di incisioni prodotte con una delle tecniche calcografiche che è la maniera nera appunto e non solo perché c'è anche una introduzione oltre alla maniera nera di altre tecniche, ecco perché il non solo e quindi questo è il tema della mostra praticamente. Esposte opere di entrambi che si ritrovano, Angelo, sono simili, sono molto differenti? Noi siamo, tecnicamente possono essere non simili, vicine dal punto di vista tecnico, però sono diverse perché noi siamo diversi, diverse nel senso dell'approccio, nel senso della produzione, nel senso che interpretiamo la realtà in maniera diversa. Ecco, ovviamente come tutti gli artisti, diventa difficile Vittorio essere troppo simili. Diceva Paul Valéry, un poeta, scrittore francese, che noi comunichiamo attraverso il bianco e il nero, cosa che la natura non sa fare con il bianco e il nero, non sa produrre nulla con un poco di inchiostro. Invece noi con poca roba riusciamo a fare quello che la natura non sa fare, ed è appunto il bianco e il nero che ci consente di fare questo. Ecco perché noi siamo uniti, siamo uniti dal bianco e il nero. Tra l'altro hai citato Paul Valéry nel catalogo che presenta questa mostra, c'è una sua frase, bisognerebbe vivere due vite, una per acquisire il possesso dello strumento, Angelo l'altra per servirsene. Esattamente, perché ci vuole tanta umiltà, tanta pazienza e tanto amore per poter fare questa attività, ma se uno diventa padrone degli strumenti non può operare, altrimenti, non lo so, va a farfalle, insomma. Qui non si può assolutamente bleffare. O conosci, oppure fai il disegnino, tanto vale che fai il disegnino su un foglio di carta e via. E finisce lì. Non è così. È giusto citare anche in questo catalogo, visto che ce l'ho qui davanti, la presentazione a cura di Lucio Galante. Lucio Galante è il professore all'Università di Lecce, un professore proprio nei beni culturali, quindi ci ha fatto tanto onore quando ha detto che era disponibile a presentarci. In effetti la sua presentazione è tutta una disamine della nostra carriera, del nostro modo di come noi ci siamo inseriti nel mondo dell'incisione attraverso una serie di esperienze fatte con altri artisti. Ecco, una carriera lunga che viene appunto riproposta dall'amico Lucio Galante. E' una carriera che qui su Materangelo comincia nel 1976. 76. Allora si chiamava scuola libera di grafica, però era completamente libera. Praticamente ognuno viaggiava a ruota libere perché non eravamo competenti e nessuno era competente nel campo dopo dell'incisione. E' stato poi nel 1978 con l'arrivo di Guido Strazza dove ci ha fatto capire che cos'è l'incisione, l'incisione come segno, l'incisione come espressione, l'incisione come gestualità. E allora ci siamo messi sotto, abbiamo studiato, abbiamo sperimentato e siamo riusciti a fare queste cose che voi vedete qua sopra col tempo. In questo catalogo con il tempo siamo in un anno importante, comunque il quarantennale. Questi sono 40 anni che appunto questa cosa va avanti senza avere contributi da parte di nessuno. Quindi autogestita nella maniera più assoluta, senza scopo di lucro, siamo riusciti a fare un'associazione di incisori. Nella nostra associazione fanno capo artisti provenienti da tutte le parti del mondo. Non solamente artisti ma anche scuole di istruzione secondaria superiore che vengono a Matera per fare stage di lavoro. Voglio ripercorrere un po' questo percorso, Angelo. Voi siete stati anche docenti, avete avuto tantissimi alunni qui a Matera, avete trasmesso tantissimo. Ma da Lecce a Matera vi siete trovati per caso insieme? Tutte e due sì, ci siamo incontrati per caso. Io sono arrivato per amore, lui è arrivato per lavoro e poi ha trovato l'amore. Io sono arrivato perché mia moglie insegnava in provincia di Lecce. E niente, ci siamo incontrati sulla spiaggia tutte e due, con i bambini piccoli. E niente, ci siamo guardati in faccia di dove siete, dove siete. E insomma è nata così questa amicizia che dura. E poi il bianco e il nero ci ha messo insieme. E poi il bianco e il nero ci ha messo insieme. Io facevo sculture inizialmente e poi è nata l'amore per quest'arte e ho abbandonato la scultura. E niente, poi è venuto fuori all'insenno al Circo della Scaletta, perché noi frequentavamo il Circo della Scaletta, la possibilità, l'esigenza di metterci insieme. e eravamo insegnanti, tutti quanti insegnanti di arte, per fare un gruppo di lavoro per quanto riguarda l'incisione. Però, ripeto, ancora nessuno di noi era competente nel fare questa attività. Ecco, entrambi insegnanti di arte e non solo voi due di questo gruppo, tanti alunni. E' venuto fuori qualche artista, Vittorio? Beh, dire la parola artista è una cosa molto grossa. Neppure noi lo siamo artisti. Noi siamo, al limite possiamo essere maestri delle tecniche che utilizziamo, ma essere artista poi, perché poi di artisti ce ne sono tanti in giro. Però qualcuno sicuramente le vostre orme le ha seguite. Beh, sicuramente gente che, se non altro, hanno compreso il linguaggio dell'incisione, il linguaggio del segno, perché frequentando e vedendo come si lavora, come si ottiene un prodotto incidendo una lastra, sicuramente hanno capito che questa tecnica non è una tecnica di riporto o tanto per passare il tempo, ma è una tecnica che impiega tempo, serietà, impegno e molta umiltà nel lavorare. Ad oggi anche artisti o magari artisti in erba, definiamoli così, stranieri, ce ne sono in questi giorni che stanno collaborando con voi, stanno apprendendo queste tecniche? Sì, ci sono sei ragazze provenienti da tutto il mondo, ecco, diciamo dall'Oriente. E frequentano i laboratori, veramente, hanno capito adesso dopo già una ventina di giorni in che modo si devono muovere. Noi ci meravigliamo come queste ragazze con tanta pazienza riescono ad ottenere delle cose straordinarie, insomma, nel senso che non straordinarie, che sono artista, assolutamente no, ma che riescono ad esprimersi, riescono, hanno capito come si devono muovere con l'attrezzo, riferendoci alla domanda precedente, hanno capito in che modo si devono muoversi e in che modo devono dialogare con la lastra, con il mezzo. Ecco, abbiamo detto si tratta di ragazze provenienti da tutto il mondo. Prima di chiudere andiamo a ribadire l'appuntamento. 19 e 31 marzo l'esposizione a Lecce in un percorso che da Lecce ha portato a Matera e da Matera riporta a Lecce i due artisti, maniera nera e non solo. L'inaugurazione è sabato 19 marzo alle 18.30 per un invito che arriva direttamente dagli artisti. Vittorio, tu come inviteresti la gente a seguire, ad essere presente a questa esposizione? Beh, a me farebbe tanto piacere incontrare i miei vecchi compagni di scuola e i miei vecchi compagni di collegio e quindi è un'occasione veramente, se il messaggio riesce ad arrivare a loro, che finalmente riesco ad incontrarli dopo, perché io sono andato via da Lecce nel 59, quindi veramente ho perduto i contatti nella maniera più assoluta con Lecce. Quindi è una grande occasione per me se riuscissi almeno ad incontrarne qualcuno. Chiesa San Sebastiano, vicolo dei sotterranei a Lecce, questa la location, abbiamo detto dal 19 fino al 31 di marzo, Vittorio Manno e Angelo Rizzelli espongono le loro incisioni, quante in totale? Saranno 60 opere, più o meno siamo lì, è una chiesetta molto bella, piccola, contenuta, una sola navata e che ci permette di far vedere queste opere di maniera nera a Lecce. Lecce è stata la nostra città di origine e credo che questa tecnica non è che non la conoscono, ma non lo so se riescono a fare, a praticarla in una certa maniera. Lecce e Matera abbiamo detto si ritrovano con voi, vi ritrovate voi a Lecce, ripartendo da Matera per quanto riguarda l'arte, c'è un'unione tra le due realtà? Tutte e due sono città d'arte, Matera ha fatto parte della terra d'Otranto e quindi di conseguenza c'è un collegamento storico che non si esaurisce in poche parole. Un percorso lungo, un percorso che con l'arte unisce un territorio vastissimo che vuole trasmettere tantissimo, anche con maniera nera e non solo, ancora lo ribadisco l'appuntamento alle 18.30 di sabato 19 marzo l'inaugurazione, chiesa di San Sebastiano Vicolo dei Sotterranei e Lecce, una sessantina le incisioni dei due maestri esposte e salutiamo Vittorio Manno e Angelo Rizzelli, grazie per essere intervenuti. Grazie a voi. Linea alla regia. Grazie a voi.